Qualcuno dice che è più importante l'esperienza. Qualcuno afferma che quel che conta è la tecnologia. Noi mettiamo a tua disposizione i 30 anni di esperienza e la più moderna tecnologia digitale. Con il metodo Digital Workflow riduciamo dell'85% i tempi dell'intervento e aumentiamo qualità, precisione e benessere. Basta con la paura del dentista. Vieni a scoprire un modo nuovo per curare i tuoi denti. Studio Dentistico Dottor Campione, Via De Caro 104, Catania.